Sicuramente avrò possibilità di farmi vedere più sovente, quindi sono contento della mia scelta e spero che ripagherà la scelta che ho fatto. Diciamo che appena mi sei presentato a offerto ho detto sì, perché comunque è un bel progetto e niente, adesso pensiamo alla salvezza. Come compagni ne conosco molti, perché ho giocato insieme alla Juve nazionale oppure al Cagliari, quindi è stata una scelta che ho accettato subito, ho sentito qualche mio compagno e mi hanno aiutato a prendere la decisione. Un impatto positivo, visto il gruppo, il gruppo sembra proprio una famiglia, tutti i ragazzi bravi ragazzi, sono bravi ragazzi, è un gruppo simile a quello che ho lasciato a Cagliari, tutto un ottimo gruppo e sicuramente la salvezza passerà da questo. Il primo pensiero è quello di far punti, che non sarà facile, però ce la metteremo tutta e sono convocabile il mister a fare le sue scelte e le rispetto. Beh, sicuramente non è una delle sfide più facili, però penso che siamo all'altezza di giocarcela con tutti e ce la giocheremo. È un momento delicato, speriamo che riusciamo a uscire nel più presto possibile. Ma Cagliari aveva fatto un'ottima partita, poi si era fatta rimontare negli ultimi minuti, però avevo visto un gruppo compatto, con idee ben precise. Niente, aveva fatto una buona partita, poi all'ultimo il Cagliari era riuscito a recuperare la partita, però aveva fatto un'ottima partita. Grazie a tutti.